Inizia con la 27esima giornata del campionato di eccellenza, la stretta finale con scontri diretti per le promozioni e per le retrocessioni. Iniziamo con l'Accademia Pavese che con Mr. Gianluca Gaudio sta raccogliendo successi e soddisfazioni e proprio domani col Gavirate che la precede di tre punti potrebbe vedere uno spiraglio d'azzurro. Anche il Seveso con la Vergiatese che naviga a centro classifica potrebbe sperare in una boccata d'ossigeno. Più difficile si fa la situazione per la Rodense che ospita il club Milano mentre si presenta interessantissima la trasferta di un auguriamoci rinato Pavia che si porta dal fanellino di coda settimo milanese. Per la leadership scontro assolutamente da non perdere al Carlo Chiappano tra Varzi e Sestese con la Baresina che ospita uno scorbutico Verbano mentre più tranquille si presentano le sfide tra la Castanese in trasferta con l'Ardo Arlazzate e la Vogherese che al Giovanni Parisi ospita il Calvairate. Per immagini, risultati e commenti l'appuntamento con Pavia Uno TV è per lunedì dalle ore 11.